Per presentare un altro brano facente parte della messa festiva di John Leavitt, alternando una danza in sei ottavi e battuta in due mezzi più tranquille, questa ribace impostazione del Gloria nella messa latina è un lavoro fresco e contemporaneo. Si esegue al pianoforte con un'orchestrazione scintillante ed è il riconoscimento e lavoro più grande di John Leavitt. Dalla missa festiva Festival Gloria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.